Ciffoni Ciffoni secondo me è un posto magico, un posto dove tu puoi essere te stesso, dove ti senti al sicuro, dove se sei un ospirante artista tu qui troverai la tua gente, dove nonostante tutte le tue differenze tu potrai trovare qualcuno con cui essere in sintonia, qualcuno con cui le tue energie sono allineate, perché questa è la magia di Ciffoni. E' importante sentirsi liberi di cambiare idea, di cambiare un percorso, di cambiare, non bisogna rimanere attaccati alle proprie idee, che quella spesso diventa una prigione del mondo adulto e una delle prigioni più difficili da aprire, da scardinare. Io armon�f около 100 euro, penso vivere una vita perfetta alla campagna. Una nuevo uomo, una nueva vita. C'è lo fatto così. Luca, ti car�anai ai notato? Non, sto ho amato, assurvolto. Non, non c'è también risposta! Ciao a dormire? Lo ya tempo siamo avanti? Abbiamo un'assistante sociale che vi un'encilo-tech. In questa visit. In questa visit? Come si è stato amore? C'è un'anima? C'è un'anima? Si mi racconta una cosa completamente differente. Grazie a tutti.